Amici di Marcos Box, ben ritrovati in questo nuovo video. In questo video andremo a parlare, andremo a dare uno sguardo a JingOS. Che cos'è JingOS? JingOS è il primo sistema operativo al mondo basato su Linux e progettato per tablet. Il core business quindi di JingOS è un'applicazione su tutti quanti i dispositivi dotati di touchscreen, dal tablet ai dispositivi ibridi come i dispositivi della serie Surface e in futuro gli sviluppatori pensano anche a realizzare una versione positivamente studiata di JingOS per smartphone. JingOS equipaggerà il JingPad A1, che sarà il primo tablet al mondo ad essere lanciato con Linux e destinato al mercato consumer. O meglio, il primo che tecnicamente dovrebbe riuscirci, perché come abbiamo visto in passato ci sono stati altri tentativi anche da parte della community di KDE. È sviluppato da un'azienda cinese chiamata Jingling e questo sistema operativo è basato su Ubuntu, nella fattispecie sull'ultima LTS di casa Canonical. Come interfaccia grafica utilizza KDE, quindi utilizza KDE Plasma, versione KDE Plasma Mobile, utilizza alcune applicazioni di KDE, come potremmo andare a vedere più avanti, e però è una prima versione perché gli sviluppatori di JingOS mirano a realizzare un sistema operativo completo con un proprio Windows Manager, con un proprio framework per poter far funzionare tutto, quindi entro la fine del 2021 si distaccheranno da KDE se tutto andrà bene e quindi avranno un sistema, un desktop environment completamente sviluppato in casa che sarà anche, si ripercuoterà secondo me in maniera positiva sulle prestazioni del tutto perché avere qualcosa di cui si ha il controllo al 100% è decisamente meglio rispetto ad appoggiarsi su altri progetti. Andiamo a dare uno sguardo, andiamo a sbloccare, come potete vedere è proprio un'interfaccia da dispositivo mobile. Ecco come si presenta JingOS al primo avvio. Il launcher di sistema è un launcher che strizza l'occhio ad iPadOS, quindi abbiamo una dock in basso, abbiamo il cosino qua sotto per tornare indietro, quindi per la gestione dei gesti e quant'altro. Vi dico subito che da computer è impossibile utilizzare un'interfaccia di mouse e tastiera, quindi se ogni tanto vedete qualche appuntamento nel quando torno indietro, quando faccio i gesti e quant'altro, è perché su macchine virtuali, su dispositivi con mouse e tastiera, non si può utilizzare in maniera efficiente, perché, ripeto, è pensato per dispositivi dotati di touchscreen. Andando alla sinistra e facendo un gesto dal alto verso il basso, è possibile accedere al notification center. Come potete vedere c'è Discover, quindi a maggior regione potete vedere come tutto è basato su KDE. Ci sono diverse applicazioni KDE installate su questo sistema. È possibile effettuare uno swipe per cancellare le notifiche. Se facciamo uno swipe dall'alto verso il basso nella parte destra dell'interfaccia, abbiamo rapido accesso al Wi-Fi, al Bluetooth, la possibilità di modificare i volumi, possibilità di modificare la luminosità, abbiamo anche un mini widget che ci dà accesso ai flussi audio in riproduzione e abbiamo la scorciatoia che ci porta nelle impostazioni di JingOS. Questa è l'interfaccia principale delle impostazioni di JingOS, quindi abbiamo la possibilità di gestire la rete, possibilità di gestire, aumentare la luminosità e quant'altro, gestione dei suoni, gestione delle password, informazioni sullo stato della batteria, informazioni sullo stato dello storage e informazioni di sistema. Cliccando su About potete vedere Jingling, che è la società che sviluppa tutto il progetto, il versione di JingOS che è la 0.8.0 e qui abbiamo un po' di specifiche di sistema, quindi in questo caso della mia macchina virtuale l'ho fatto con 4 giga di RAM e quant'altro. Il kernel è il 5.4.0 che è il kernel che troviamo di default su .20.04. Sempre nella interfaccia, andando su System & Update, è possibile aggiornare il sistema. In questo caso abbiamo la versione 0.8, non ci sono nuove versioni disponibili. Torniamo indietro, torniamo nella schermata principale. Come potete vedere abbiamo una serie di applicazioni preinstallate. Abbiamo la suite di WPS Office, conoscete di sicuro questa suite d'ufficio, viene apparato anche su Marcos Box, anche se c'è già un aggiornamento da fare. Viene apparato anche su Marcos Box, è una suite d'ufficio di origini, di una software house di origini cinesi, ha un'interfaccia molto familiare a chi utilizza Microsoft Office. Su Marcos Box trovate anche una piccola guida che vi spiega come tradurre il tutto in italiano. Quindi ne più ne meno è WPS Office, nella versione completa anche di PDF. Come browser web troviamo Chromium. Andiamo di navigare su un sito a caso. Quindi nulla di... Di nuovo è Chromium, andiamo a vedere che versione di Chromium è. E la versione 90, quindi secondo me sarà anche la versione quella... formato Snap, perché è basata su Ubuntu, quindi su Ubuntu troviamo quella versione. Camera, in questo caso non funziona, ma è l'applicazione camera, quella di KDE. abbiamo un calendario, abbiamo l'applicazione orologio, con la possibilità di settare gli allarmi, controllo rovescio e cronometro, il registratore, l'applicazione Photos, il file manager. Il file manager è anche abbastanza carino, come è stato fatto. Possiamo vedere qualche... possiamo vedere qua sopra... andiamo un po'... music, ci sono alcune canzoni. Minchia, che cosa sono andato a riprodurre? Va bene, non lo faccio più. andiamo nella cartella picture, così possiamo vedere qualche immagine, quindi il visualizzatore di immagini. Abbiamo anche il video di presentazione di Jingle S. Quindi è possibile avere un file manager, che è anche... sembra davvero ben fatto. Oltre al file manager, abbiamo anche il media player, che ovviamente fa la stessa cosa, quindi... è la stessa cosa che abbiamo visto poco fa, possiamo riprodurre i video, quindi anche in questo caso ci farà agganciare il video che avevamo prima. Torniamo indietro. Come potete vedere, c'è impostazioni di sistema e questa icona vi sarà di sicuro familiare, perché è l'impostazione di sistema di KDE Plasma. Quindi, niente di nuovo. Vediamo che versione è. E la versione... vediamola dopo. Qua non si può vedere, me ne dimentico sempre. Torniamo indietro, così vi faccio vedere anche la versione di Plasma. Andiamo un attimo qui. Il terminale, che è il nostro amato console, andiamo a andare... in fetch, così... Andiamo a vedere un po' le impostazioni. Abbiamo GingOS versione 20.04 basato su Ubuntu 20.04 focal fossa. Il kernel, l'abbiamo visto già prima, il 5.4. e abbiamo KDE nella versione 5.78 e nello specifico Plasma 5.20.2 con KWin come Windows Manager. Come vi dicevo prima, come vi ho detto all'inizio del video, l'intenzione degli sviluppatori è quella di distaccarsi da KDE e sviluppare un framework fatto tutto in casa e che vedremo entro la fine del 2021. L'altra applicazione che troviamo qui in basso non è altro che lo store, tramite il quale è possibile installare le applicazioni. Quindi, se vogliamo che ne sono installarci VLC, clicchiamo qui, mettiamo la password e ci installiamo VLC. Adesso facciamo rifare l'installazione, così vediamo anche l'icona che si aggiungerà. Le altre categorie dello store sono attualmente vuote. L'unica categoria che è riempita è quella relativa agli strumenti di sviluppo. Però tutto il resto non è ancora stato indicizzato nello store. Comunque è possibile anche aggiornare il sistema direttamente dello store. Quindi, se clicchiamo su Software Update è possibile aggiornare il tutto. Cliccando su Applicazioni installate è possibile vedere quali sono le applicazioni che sono installate. E come potete vedere abbiamo Discover, abbiamo tutti gli strumenti di KDE, quindi l'orologio, abbiamo anche Nextcloud per Kaccounts, Plasma Camera, abbiamo anche il riproduttore Wave, questo qua non lo conoscevo. Questo non dovrebbe essere legato a KDE. Insomma, come potete vedere, è di fatto una Ubuntu con KDE, ecco, nel frattempo ha risalgato WGC, vediamo un po' come è l'interfaccia senza tassi, senza niente di WGC, senza pussanti per chiudere tutto. Che dire, se solo se fioriranno, speriamo che gli sviluppatori portino avanti il progetto, riescano a introdurre, riescono a mettere sul mercato questo dispositivo, questo tablet, ha un prezzo anche decente perché le specifiche ci sono, andatevi poi a leggere le specifiche che trovate sul sito ufficiale. Mi piacerebbe poter avere uno strumento del genere. Beh, con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci li ascoltiamo in un prossimo video, in un prossimo podcast, sulle pagine di Marcosbox e seguite questo progetto, io lo seguirò e vi terrò aggiornati con le prossime versioni, non appena uscirà la prossima versione farò un altro video per vedere a che punto è soprattutto lo sviluppo dell'interfaccia grafica e, beh, buon download a tutti quanti, buon test a tutti quanti, ciao ciao!